ciao ragazzi io sono francesco saviano di 3d skill up oggi vedremo come importare ed esportare oggetti con blender possiamo importare o esportare file andando in file import export come vedete qui sono presenti tutta una serie di file di default e possiamo anche aggiungerne di altri andando in edit preferences nella scheda addons qui selezioniamo import export e possiamo ad esempio aggiungere un nuovo formato di file e quindi ce lo ritroviamo qui in import proviamo ad esempio ad importare un file fbx andiamo in file import fbx scegliamo il nostro fbx quindi import fbx ed eccolo qui quando esportiamo solitamente non esportiamo tutta la scena ma solo gli oggetti che ci interessano quindi li selezioniamo andiamo su file export diciamo che vogliamo esportare un fbx e quindi assicuriamoci di spuntare l'opzione selected object in questo modo solo gli oggetti selezionati verranno esportati possiamo anche rapidamente copiare un oggetto tra un file blend e l'altro semplicemente aprendo una nuova finestra con blender dove sarà presente il nostro oggetto da copiare lo selezioniamo ctrl c copy object e dopo di che ritorniamo nel nostro file di partenza ctrl v ed ecco che il nostro oggetto verrà inserito nella scena quindi questo è tutto su come importare ed esportare con blender spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima